Musica Nuovi spostamenti di medici del Giovanni Paolo II verso altri ospedali della provincia. Dopo la medicina tocca anche alla pediatria. Il commissario Zappia parla di provvedimento inevitabile per garantire la funzionalità di tutti i nosocomi. Insorge il sindaco di Sciacca. La misura adesso è colma. Si sta oltrepassando ogni limite, dichiara Fabio Termine, il quale aggiunge se il disegno è quello di smantellare il Giovanni Paolo II. Ce lo dicano chiaramente. Arriva l'estate, torna l'emergenza incendi. Riunione operativa tra protezione civile, vigili del fuoco e prefettura. Si punta su prevenzione e sensibilizzazione. Sindaci agrigentini invitati a emanare apposite ordinanze. 22 comuni, tra cui Sciacca, elaborano una strategia di sviluppo del territorio per intercettare in futuro finanziamenti comunitari. Un risultato importante di unità, condivisione, dichiara l'assessore Francesco Di Mino. Via libera del governo Schifani al disegno di legge di riforma dei consorsi di bonifica in Sicilia. Da 13 saranno ridotti a 4 e saranno gli agricoltori a eleggere i vertici. Il disegno di legge passa adesso all'esame dell'Ars. Cura con Arte, inaugurata questa mattina la Galleria d'Arte dei reparti di Oncologia e Ginecologia Ostetricia dell'Ospedale di Sciacca. In esposizione le opere di Federica Grisafi, una iniziativa del Rotary Club di Sciacca. Un cordiale benvenuto anche oggi al nostro telegiornale. Ospedale di Sciacca, dopo i continui spostamenti di medici del Giovanni Paolo II presso altri ospedali, nelle ultime settimane il caso aveva riguardato soprattutto il reparto di medicina. Esplode oggi anche il caso della pediatria con una nuova disposizione del servizio che prevede l'impiego di un pediatra di Sciacca presso l'ospedale di Licata. Nulla di sorprendente, succede anche che ortopedici di Agrigento vengano a coprire turni all'ospedale di Sciacca, dichiara oggi al nostro telegiornale il commissario dell'ASPE Mario Zappia, al quale è stato rinnovato l'incarico per altri quattro mesi. Ma sentiamo Zappia con cui abbiamo parlato anche di tante carenze presenti al Giovanni Paolo II. C'è una nuova, l'ennesima disposizione di servizio che prevede lo spostamento di medici del Giovanni Paolo II di Sciacca presso altri ospedali. La vicenda questa volta riguarda la pediatria dove un medico è stato spostato temporaneamente presso l'ospedale di Licata. Ormai si assiste con cadenza periodica al dirottamento di medici del Giovanni Paolo II presso altri ospedali della provincia, nonostante i reparti dell'ospedale di Sciacca siano in grande sofferenza. Il caso della pediatria è esploso questa mattina durante l'inaugurazione presso il nosocomio Saccenze di alcune iniziative alla presenza del commissario dell'ASP Mario Zappia al quale abbiamo chiesto le ragioni di questi continui spostamenti di personale a disposizione dell'ospedale di Sciacca presso altri ospedali, compromettendo così una situazione già di per sé assai critica. Perché si continua con questi spostamenti nonostante siano reparti comunque in sofferenza? Ma perché queste stesse persone che dicono che il pediatria oggi va a Licata non dicono gli ortopedici che da Agrigento vengono a Sciacca a garantire il servizio in questa comunità? Il principio fondamentale che mi riguarda, e su questo non potete convincermi mai del contrario, noi abbiamo cinque ospedali in questa provincia, non esiste la Repubblica di Sciacca divisa alla Repubblica di Licata, non è così che si ragiona. Quando avrà bisogno Sciacca noi abbiamo il dovere di aiutarla, quando avrà bisogno altri ospedali noi abbiamo il dovere di aiutare. E non lo facciamo solo con i pediatri di Sciacca. Agrigento sta facendo, sta dando anestesisti, ortopedici, cardiologi, pediatri e forse non dimentico niente. Un'altra emergenza qui è l'urologia per esempio. L'urologia anche ad Agrigento siamo messi male, ma abbiamo fatto i bandi per i... Allora, o ci convinciamo che il problema sono i medici che non ci sono, oppure parleremo all'infinito, io sono disposto anche a farlo, tanto poi vi porto gli altri, guarda, concorso, bandito, presentati 1, presentati 0, come abbiamo fatto per il pronto concorso, per tante cose. Se si vuole fare il dibattito su questo, è un dibattito che è bello, perché riempie di contenuti chi ha voglia di parlare in generale, però basta aprire i giornali di qualsiasi provincia, di qualsiasi regione, per dire che questo è un dato reale. Allora invece bisognerebbe parlare. Cosa bisogna fare? Qualcuno ha un'idea migliore sul fatto che quando manca l'ortopedica sciacca io glielo mandi da Agrigento e quando manca il pediatra Licata io glielo mandi da Agrigento per una settimana e una settimana da sciacca. Se qualcuno ha un'idea migliore me la dia, ma se l'idea è migliore e chiudiamo l'ospedale Licata, io potrò anche farlo, ma solo quando questo verrà fatto per programmazione sanitaria, ma io i licatesi o il comprensorio di Licata, così come il comprensorio di Sciacca, per me sono la stessa cosa e vanno trattati allo stesso modo. Con tanta fatica vi dico. Al manager dell'aspedia Agrigento abbiamo chiesto anche notizie in merito alla tanto attesa entrata in funzione della Stroke Unit senza la quale, come è noto, il Giovanni Paolo II di Sciacca continua a rimanere un'idea di primo livello solo sulla carta. Questi ulteriori mesi saranno sufficienti per poter finalmente far entrare in funzione a Sciacca la Stroke Unit? Allora, qualche altro passo avanti è stato fatto. Se noi non vogliamo fare sempre conti con il fatto che non ci sono medici e tutti lo dimenticano come qualche minuto fa un collega nostro, purtroppo noi continuiamo a prenderci in giro, ovviamente sapere che mancano i medici non deve essere un alibi per non fare nulla, anche perché io alibi non me li posso prendere perché poi alla fine giustamente la gente mi chiede conto di quello che è stato fatto. C'erano neurologi a quanto pare pronti a mettersi a disposizione, però alla luce di una situazione di stallo che è continua hanno preferito fare scelte diverse? Queste sono le leggende metropolitane che a me le abbiamo verificate, le abbiamo cercate e a me non risulta tutto questo, però va bene comunque per fare titoli di stampa, per fare dialoghi, per fare dibattiti nei circoli o altro. Io so che noi abbiamo fatto dei concorsi, abbiamo sempre una modalità concorsuale aperta, l'abbiamo rinnovato come la riunione che abbiamo fatto in assessorato e adesso stiamo chiedendo a Trapani, come abbiamo fatto anche per altre banche, alle aspe vicine se c'è la possibilità di convenzionarci. Allora, io oggi è il 30 giugno, ritengo che abbiamo fatto di tutto per fare anche questa cosa e un passo avanti abbiamo fatto con l'arruolamento e continueremo a farlo. Commissario Zappia che infine ha così commentato la proroga del suo incarico per altri quattro mesi. È stato semplicemente usurante non sapere nulla fino all'ultimo momento, però oramai ci siamo abituati, me lo aspettavo, va bene tutto quello che viene fuori da parte di chi sono i nostri superiori, però abbiamo altri quattro mesi per lavorare. Se ci dicessero anche il resto, con un po' di anticipo, saremmo anche più sereni. La misura è colma, non è tollerabile che venga mandato allicata un medico della pediatria di Sciac anziché un pediatra da agrigento. Così il sindaco di Sciac a Fabio Termine commenta le ultime novità sull'ospedale e annuncia che chiederà un incontro con il commissario Zappia. Se vogliono smantellare il nostro ospedale ce lo dicano chiaramente, aggiunge Fabio Termine. Sentiamo. La misura è colma, si sta oltrepassando il limite. Così il sindaco di Sciac a Fabio Termine ha commentato l'ennesimo spostamento di personale medico del Giovanni Paolo II presso altri ospedali. Non si comprende come mai non siano stati spostati allicata medici della pediatria di agrigento, dichiara al nostro telegiornale il primo cittadino che annuncia anche la volontà di chiedere un incontro al commissario dell'Asp. È stato bandito un concorso di recente, sono stati assunti quattro medici, tutti ad agrigento. Uno di questi poteva andare a coprire i turni di licata, visto che all'icata c'è un'unità semplice, all'agrigento c'è quella complessa. Io credo che veramente siamo al limite ormai. Oggi siamo qui in un'occasione bella, l'inaugurazione di questa mostra d'arte all'interno dell'ospedale, però sentire dalla viva voce di un medico che giusto ieri c'è stato un ordine di servizio per spostare un medico da Sciac a Licata, secondo me questo è veramente una grande beffa. Quindi dobbiamo un po' guardarci in faccia e capire chi è dalla nostra parte e chi non è dalla nostra parte. Quindi io domani incontrerò il Comitato Sanità, era già un incontro fissato, porterò all'attenzione anche del Comitato questa tematica. La prossima settimana chiederemo un incontro a Zappia per capire che cosa dobbiamo fare, perché se l'ospedale di Sciacca lo dobbiamo smantellare, diciamolo prima, e così lo sappiamo tutti. Sono finiti in ospedale dopo aver mangiato del tonno fresco. Si tratta di un intero nucleo familiare, marito-moglie e due figli. Sono tutti ricoverati all'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano per intossicazione. Tre di loro sono in terapia intensiva, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. La squadra mobile della Questura di Agrigento ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Palermo nei confronti di un soggetto di nazionalità nigeriana di 25 anni per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di gravi delitti quali omicidio, tortura, violenza sessuale, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Indagine che scaturisce dalle dichiarazioni rese dai numerosi migranti giunti a Lampedusa nei mesi scorsi e che hanno consentito di fare luce su una pericolosissima associazione criminale della quale l'indagato sarebbe componente operante sulla rotta del Mediterraneo centrale. Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti del 25enne nigeriano è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere. E arriva l'estate e si torna a parlare di emergenza incendi. La protezione civile provinciale ha tenuto un incontro operativo sulle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi nel territorio provinciale. Vediamo il servizio. Avviare con tempestività tutte le iniziative e coordinare le attività degli enti e delle istituzioni coinvolte nella gestione dell'attività di prevenzione e contrasto agli incendi al fine di garantire un'azione coordinata e una risposta efficiente ad una problematica caratterizzata da una crescente criticità e pericolosità per il territorio e per la pubblica incolumità. Arriva l'estate e si ripropone l'emergenza incendi. Ieri nella sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si è svolta la riunione della protezione civile alla presenza anche del Capo di Gabinetto della Prefettura di Agrigento. Nel corso della riunione è emersa la necessità di rafforzare l'attività di prevenzione incendi oltre che mediante la realizzazione da parte degli organi preposti di barriere frangifuoco, di interventi di pulizia del sottobosco, di creazione di linee tagliafuoco anche attraverso l'eliminazione delle sterpaglie dei terreni e dalle proprietà private. In tale ambito i lavori da parte degli operatori dell'azienda demaniale delle foreste sono già stati avviati. Fondamentale viene ritenuta anche l'opera di sensibilizzazione della popolazione sul tema della prevenzione. Alcune amministrazioni comunali hanno già emanato apposite ordinanze concernenti la regolamentazione delle attività di scerbatura e pulizia dei terreni privati. La Prefettura di Agrigento ha annunciato che nei prossimi giorni verrà diramata a tutti i sindaci della provincia una nota volta a richiamare l'attenzione sulle attività da predisporre per una corretta opera in materia di prevenzione degli incendi. C'è anche sciacca tra i 22 comuni delle province di Agrigento, Trapani e Palermo che fanno parte del sistema intercomunale di rango urbano. Ieri ad Alcamo, comune capofila, è stato approvato il documento di strategia comune. Un risultato importante di unità e di condivisione per raggiungere il traguardo dell'accesso ai nuovi fondi europei, FESR, dichiara l'assessore alle politiche comunitarie, Francesco Di Mino. Vediamo. Sono 22 comuni delle province di Agrigento, Trapani e Palermo che ieri pomeriggio ad Alcamo hanno approvato il documento di strategia comune dopo aver costituito nei mesi scorsi il sistema intercomunale di rango urbano della Sicilia occidentale. Il comune di Sciacca è nella cabina di regia, rappresenta l'area sud della quale fanno parte anche Montevago, Santa Margherita, Caltabellotta, Menfi e Sambuca di Sicilia. Ieri si è conclusa questa lunghissima fase, una fase molto importante in cui 23 comuni hanno collaborato per scrivere una strategia comune. Sono comuni variegati perché ci sono comuni costieri, comuni montani, comuni medi, comuni piccoli quindi è stato anche difficile trovare i punti in comune però grazie al lavoro dei tecnici che hanno collaborato tra cui pure alcuni tecnici di Sciacca come il dirigente Dandoro Pisardi come l'ingegnere Giovanni Borsalino e come il tecnico PNRR Francesca Puglisi grazie al lavoro di tutti si è riuscita a fare la quadra e a trovare una strategia di sviluppo comune che riguarda vari ambiti. Ieri è stata firmata questa strategia che adesso sarà trasmessa alla Regione su che cosa si punta le chiedo? Allora si punta in realtà su tantissime cose dalla promozione delle piccole e medie imprese alla promozione dell'agricoltura e della pesca alla valorizzazione dei percorsi naturalistici ma anche del nostro patrimonio artistico monumentale al turismo esperienziale quindi diciamo si punta su tantissime cose per fare in modo che comunque il comune denominatore è lo sviluppo del territorio e fare in modo che si inverta la tendenza che vede tanti giovani andare via quindi diventare in qualche maniera attrattore per l'imprenditoria giovanile e nuova che viene anche da fuori Elaborare una strategia ma poi l'obiettivo finale è quello di intercettare nuovi finanziamenti per questo territorio che va da Alcamo come dicevamo arriva a Sciacchia e comprende tanti altri comuni sì sicuramente fine ultimamente accettare i finanziamenti però naturalmente questa strategia deve essere ora vagliata giudicata ma non giudicata non solo dalla regione siciliana ma pure dalla Commissione Europea quindi naturalmente speriamo che ora il lavoro che abbiamo fatto sia esitato positivamente in questo modo noi potremo accedere a tutti i finanziamenti FESTR e naturalmente capiamo benissimo come questa strategia qualora una volta venga valutata positivamente sarà quella che guiderà i finanziamenti FESTR da qui a 7 anni quindi naturalmente abbiamo avuto una bellissima responsabilità e io mi sento orgoglioso di aver rappresentato il Comune di Sciacca in quelle sedi anche perché è stato un lavoro ben fatto è un lavoro veramente di ragionamento comune che forse mai prima dovrà essere fatto su così tanti comuni approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge di riforma dei consorzi di bonifica e dell'intero sistema dell'irrigazione in Sicilia la gestione dei consorzi è da diverse settimane in primo piano per la vicenda del pignoramento delle somme del consorzio di agrigento che ha generato il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori questione per la quale l'ARS ha approvato un contributo di 3 milioni e 400 mila euro vediamo il disegno di legge sui consorzi di bonifica in Sicilia approvato ieri dalla Giunta guidata da Renato Schifani si ispira ai principi della tutela dell'equilibrio idrogeologico del territorio dell'uso integrale e razionale della risorsa idrica e della garanzia di un servizio essenziale per l'agricoltura prevede tra l'altro la riduzione da 13 a 4 enti e una revisione del sistema tariffario di finanziamento di risultato storico per la Sicilia ha parlato il presidente Renato Schifani evidenziando come questo sia tra i provvedimenti più attesi per dare una svolta nella gestione delle risorse idriche per l'irrigazione che passa da un uso più razionale dell'acqua anche in considerazione dei cambiamenti climatici degli ultimi anni la legge interviene nelle competenze di tutti gli attori coinvolti regione, agricoltori, consorzi e soggetti pubblici e privati definendole con chiarezza e allineando la Sicilia al quadro normativo europeo e nazionale in materia La riforma del settore non era più derogabile dichiarato da parte sua l'assessore regionale all'agricoltura San Martino che adesso auspica un'accelera approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea regionale siciliana L'assessore parla di una vera rivoluzione per l'agricoltura siciliana perché la dota di un sistema di irrigazione bonifica organizzato sui principi della coerenza dei bacini idrografici e dell'uso razionale della risorsa idrica e nuovamente dopo lungo tempo del coinvolgimento dei produttori Il testo di legge prevede che si passerà dagli attuali 13 enti gli 11 consorsi storici e due consorsi della Sicilia occidentale e orientale a un assetto basato su quattro organismi corrispondenti a bacini idrografici omogenei Quello nord-orientale che comprenderà le province di Catania e Messina e parte delle province di Siracusa e di Enna il nord-occidentale, ossia le province di Palermo e Trapani il sud-occidentale che riguarderà la provincia di Egrigento e parte delle province di Palermo, Trapani, Caltanissette ed Enna e il sud-orientale, ossia la provincia di Ragusa e parte delle province di Siracusa e Caltanissetta I quattro nuovi consorsi avranno la forma di enti economici di diritto pubblico associativi restituendo la gestione agli agricoltori Saranno infatti i consorziati ad eleggere per ogni consorzio e comandato quadrinale tre componenti su quattro del Consiglio d'Amministrazione inclusi Presidente e Vicepresidente mentre la Regione designerà un solo componente comandato a titolo gratuito oltre ai revisori La Regione assumerà le funzioni di vigilanza e coordinamento continuando a garantire gli investimenti necessari per la realizzazione e l'efficientamento delle opere pubbliche di raccolta e distribuzione Altro elemento centrale della riforma è la revisione del sistema tariffario di finanziamento Gli attuali consorsi saranno destinati alla liquidazione senza nuovi oneri per la Regione con le infrastrutture e gli strumenti che passeranno ai nuovi organismi La legge di riforma prevede che il personale, sia stagionale che a tempo indeterminato transiterà alle dipendenze dei quattro consorsi di bonifica con applicazione del contratto collettivo di categoria Soddisfatta del testo di riforma dei consorsi di bonifica Lega Coop Sicilia per la quale il nuovo assetto sarà in grado di produrre benefici immediati per il mondo agricolo È un susseguirsi di segnalazioni e interrogazioni in relazione alle condizioni in cui versa la città di Sciacca a stagione turistica ormai da tempo avviata Oggi sono le consigliere Clelia Catanzaro e Carmela Sant'Angelo a sollevare in particolare il problema della mancata pulizia e cura del verde pubblico Vediamo Degrado urbano, scarsa pulizia e incuria del verde sono le problematiche oggetto dell'interrogazione presentata oggi all'amministrazione comunale dalle consigliere Clelia Catanzaro e Carmela Sant'Angelo a fronte scrivono delle continue lamentele segnalazioni da parte di Saccenzi e visitatori Il verde sembra essere scomparso per lasciare il posto ad erbaccio e rinsecchite alla sporcizia C'è il degrado più totale, evidenziano le due esponenti dell'opposizione soffermandosi in particolare sulle condizioni in cui versano la villa comunale e la villetta di San Michele Nella villa Scaturro, come evidenziato nelle scorse settimane anche dalla nostra emittente non si riesce a risolvere il problema dei servizi igienici I bagni presenti nel sito, scrivono oggi le consigliere Catanzaro e Sant'Angelo sono chiusi e quindi non fruibili al pubblico situazione che determina gravi disagi e fatti spiacevoli Viene poi rimarcato come all'interno del giardino storico della città di Sciacca si è carente la cura di alberi, fiori e siepi la manutenzione delle inferriate, delle panchine, degli arredi e dei monumenti Non va meglio, aggiungono Clelia Catanzaro e Carmela Sant'Angelo nella villetta di San Michele un piccolo angolo di verde pubblico, suggestivo e panoramico che rappresentava un luogo di ritrovo per gli anziani residenti nel quartiere ma anche per i ragazzini che amavano trascorrere del tempo a giocare è chiusa da diversi anni e tutta l'aria invasa ad erbacce e sterpaglie senza che nessuna manutenzione sia stata fatta alla recensione della balconata panoramica o all'impianto di illuminazione che non funziona La percezione, dichiarano le due consigliere, è quella di una città smarrita e sempre più abbandonata e sono i cittadini, aggiungono, a lamentarsi per la carenza di pulizia e cura del verde Certamente, concludono Clelia Catanzaro e Carmela Sant'Angelo non è in queste condizioni che dovrebbe presentarsi la città a vocazione turistica All'aggiunta guidata da Fabio Termina mi ha richiesto quali iniziative intende adottare per risolvere le problematiche relative ai servizi di pulizia cittadina e alla cura del verde pubblico e quali sono le azioni di verifica, di controllo e di indirizzo che intende mettere in atto per evitare in futuro il ripetersi di tale degrado e incuria Cambiamo argomento Nuovo ritrovamento prezioso a Segesta seppellito per secoli da pochi centimetri di terra e dalla vegetazione nell'area dell'acropoli sud è tornato alla luce un altare, presumibilmente di epoca ellenistica composto da due raffinati elementi lapidei scolpiti Questo eccezionale reperto rinvenuto conferma l'inestimabile valore storico e artistico che i siti archeologici rappresentano per il nostro territorio ha commentato il presidente della regione siciliana Renato Schifani confermando l'impegno del governo a migliorare la fruizione di questi luoghi L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento dice stop al cartaceo per le diverse pratiche di autorizzazione sanitaria destinate al servizio igiene e ambienti di vita del Dipartimento di Prevenzione A partire dalla prossima decade del mese di luglio l'azienda avvierà una digitalizzazione delle procedure di ricezione prese in carico ed esito delle istanze prodotte dall'utenza Attraverso una specifica sezione del sito web istituzionale di prossima attivazione i richiedenti, per lo più società e aziende, potranno inserire la propria anagrafica caricare allegate e produrre la propria istanza sottoscrivendola online e ottenendone copia digitale Da quel momento sarà sufficiente accedere all'area personale del portale per monitorare lo stato di avanzamento della propria domanda e seguire l'iter autorizzativo secondo un procedimento che mira a semplificare le procedure e renderle sempre più funzionali, trasparenti e tracciabili Cura con arte Inaugurata questa mattina la Galleria d'Arte all'interno dei reparti di Oncologia e Ginecologia Estetricia dell'ospedale Giovanni Paolo II dove sono in esposizione le opere dell'artista saccense Federica Grisafi Una iniziativa promossa dal Rotary, già realizzata con successo in altri ospedali e che nasce da un'idea della referente del progetto, la dottoressa Elena Foddai Vediamo Inaugurata questa mattina all'interno dei reparti di Oncologia e Ginecologia Ostetricia dell'ospedale di Sciacca la Galleria d'Arte dell'artista saccense Federica Grisafi Un'iniziativa realizzata dal Rotary Club di Sciacca Il cui obiettivo è quello di favorire attraverso l'arte il benessere di pazienti e familiari E' questo lo spirito che ci ha animato perché in una visione così olistica della medicina anche si sta bene non solo con le cure ma con lo stato d'animo sereno eccetera Speriamo che questo che stiamo realizzando possa alleviare e dare un sorriso alle persone che frequentano purtroppo che frequentano l'ospedale E' un progetto importante che abbiamo subito preso di Buzzo Buono promosso dal dottore Sant'Angelo che ce ne ha parlato all'inizio dell'anno e che siamo riusciti a portare così in porto con l'aiuto anche delle altre associazioni delle Rotary anche di Palermo attraverso la dottoressa Foddai perché loro già lì hanno installato due gallerie al Policlinico e al Civico e noi ecco la cosa importante è questa non è una cosa fine a se stessa Noi saremo in rete con gli altri ospedali per cui le mostre le intercambieremo e quindi è una cosa che non ha una durata prefissata E' un piacere anche perché più che rendere più piacevole umanizza avvicina di più i malati con l'esterno e per fare capire che l'ospedale è un po' di tutti noi e quindi questo serve a poterlo anche apprezzare e tutelarlo nel modo migliore e cercare di migliorarlo in tutto anche in quello che può essere questo approccio con l'esterno Un'iniziativa già sperimentata con successo in altri ospedali e che nasce da un'idea della dottoressa Elena Foddai referente del progetto Abbiamo inaugurato la prima galleria d'arte al reparto di chirurgia oncologica dell'ospedale Civico di Palermo abbiamo fatto varie mostre con tantissimi artisti poi abbiamo inaugurato una seconda galleria al reparto di ginecologia ostetricia del Policlinico Paolo Giacone sempre di Palermo e adesso siamo qui per inaugurare quest'altra galleria finalmente l'arte va dalle persone l'arte cambia gli ospedali Nei due reparti del Giovanni Paolo II da oggi sono dunque in esposizione i disegni animati di Frida alter ego della giovane artista saccense Federica Grisafi che ha inventato una guida turistica virtuale che promuove la città di Sciacca Federica Grisafi, Frida arriva anche in ospedale? Sì esatto, sono felice anche di questa cosa per permettere alle persone che sono giustamente qui che per via di visite importanti come il reparto oncologia possano alleviare le sofferenze anche guardando Sciacca da questi punti di vista non solo la mostra anche all'esterno ma anche qui all'interno Un'iniziativa che si inquadra nell'ottica di migliorare l'accoglienza in ospedale Per me è molto importante l'accoglienza in ospedale è un tema che deve essere affrontato è un tema che deve essere sviscerato è importante la presenza degli psicologi oggi noi abbiamo la madrina che è la dottoressa Foddai che ha sposato, che ha iniziato questo progetto al civico di Palermo quindi che noi poi abbiamo sposato perché oltre alla cura oltre alle professionalità mediche è necessario che oggi venga data un supporto anche come accoglienza perché accogliere l'ammalato e accoglierlo bene già è una grande parte del nostro lavoro Si terrà a Sciacca il 3 e 4 luglio 2023 il Living Lab sul tema del rilancio e potenziamento dell'ecoturismo nell'area ovest del Mediterraneo che vedrà il coinvolgimento di istituzioni, imprenditori e società civile di ben sei paesi del Mediterraneo scambiarsi pratiche, esperienze, strategie di sviluppo per dar vita a un turismo florido, sano e sostenibile L'evento si svolgerà nell'ambito del progetto RebootMed finanziato dalla Commissione Europea ed inserito nel programma d'azione di Cinea Ad organizzare l'evento è il partner siciliano del progetto RebootMed l'impresa sociale Prism con sede a Palermo ed Enna che da oltre dieci anni è impegnata attivamente a livello locale e internazionale nel generare impatto sociale, culturale, ambientale ed economico attraverso l'utilizzo di fondi e strumenti europei Nel corso dei due giorni di Living Lab i partecipanti saranno condotti anche alla scoperta del Museo dei Cinque Sensi di Sciacca divenuto ormai best practice nazionale ed internazionale in termini di creazione di connessioni rigenerative tra abitanti e territorio e di turismo sostenibile basato sulla valorizzazione delle identità territoriali Case popolari di Montevago consegnati i lavori di riqualificazione per i quali saranno investiti oltre 4 milioni di euro e il servizio Sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione degli alloggi popolari di Montevago ad eseguirli sarà la Progresso Gruppo SRL di Favara che si è giudicata all'appalto integrato da 4 milioni e 110 mila euro con il ribasso del 30,9% Nel dettaglio saranno effettuati i lavori di efficientamento delle facciate ripristino degli impianti di raccolta delle acque meteoriche negli alloggi popolari di via 15 gennaio e corso del popolo Il progetto presentato dal Comune è stato finanziato nell'ambito del bando sicuro, verde e sociale indetto dall'assessorato regionale alle infrastrutture nel quadro del programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale previsto dal PNRR Un altro progetto importante che va in porto commenta oggi il sindaco di Montevago Margherita Larrocca Ruvolo grazie ad un lavoro di squadra tra l'amministrazione i dipendenti e dirigenti comunali e le istituzioni regionali Un intervento che consentirà di mettere in sicurezza e riqualificare le due palazzine degli alloggi popolari e di ridare quindi serenità a tante famiglie L'iter per la ristrutturazione delle case popolari di Montevago era partito a seguito di una visita dell'assessore regionale Marco Falcone già nella precedente legislatura quando aveva la delega alle infrastrutture dopo aver constatato personalmente le condizioni di degrado degli alloggi popolari Scade il prossimo 31 luglio il termine per l'accesso ai benefici concessi dall'ERSU l'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Palermo il termine contenuto nel bando di concorso per l'anno accademico 2023-2024 è quanto hanno evidenziato l'assessore alla pubblica istruzione Salvatore Mannino e il dirigente venerando Rapisardi invitando gli studenti a rivolgersi per qualsiasi informazione e chiarimento allo sportello universitario del comune di Sciacca sito in piazzetta Lazzarini ex istituto Sant'Anna dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 l'ERSU attribuisce borse di studio posti letto servizi di ristorazione ed altri benefici e servizi per gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea triennale magistrale dottorato di ricerca corsi di specializzazione corsi dell'alta formazione artistica e dell'alta formazione musicale le richieste di partecipazione al concorso dovranno essere presentate tramite il portale dei servizi online dell'ERSU nel bando di concorso sono illustrate le modalità ed indicati requisiti economici per la partecipazione gli studenti possono rivolgersi allo sportello universitario del comune di Sciacca sito in piazza Lazzarini ex istituto Sant'Anna dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 il collasso di una democrazia è il titolo del libro dello scrittore ex deputato Federico Fornaro che verrà presentato domani pomeriggio alle 17 presso la chiesa della raccomandata di Sciacca vediamo il servizio appuntamento con la storia domani pomeriggio all'ex chiesa della raccomandata di Sciacca per la presentazione del libro il collasso di una democrazia dello scrittore ed ex deputato Federico Fornaro a moderare il dibattito sarà Lorenzo Benfari si tratta di un saggio storico politico che l'onorevole nonché scrittore Federico Fornaro ha scritto focalizzando l'attenzione con dovizia di particolari e di aneddoti del quadriennio che va dal 1919 quindi all'indomani del primo conflitto mondiale fino al 1922 ovvero la data spartiacque che portò poi che condusse l'Italia alla dittatura nazionale fascista quindi l'avvento di Mussolini come uomo politico e successivamente come presidente del consiglio del nostro paese perché è interessante un appuntamento del genere? sì, è importante per conoscere bene quindi per approfondire e per poterci confrontare su quelle cause e sui contesti il sociale, l'economico e il politico e anche la crisi istituzionale che hanno appunto favorito l'avvento del fascismo in un periodo in cui tra l'altro si torna a parlare di regimi dittatoriali il tema è veramente di grande attualità il tema è di grande attualità la tematica è calda stiamo vedendo noi i regimi totalitari o comunque autoritari di cosa sono capaci parliamo alla guerra in Ucraina e non soltanto esempi ne potremmo fare purtroppo molti la certezza che abbiamo è che l'Unione Europea sta garantendo almeno all'interno dei confini della stessa Unione la pace e la prosperità dei popoli e dei paesi il ruolo dei cristiani nell'Italia di oggi e nel territorio per riflettere sul contributo che i cristiani possono dare soprattutto nell'azione sociale e politica è il tema del convegno organizzato dal Centro Studi De Gasperi di Sciacca in programma domani alle ore 17.30 nel Salone Parrocchiale della Perriera interverranno Rocco Gumina e Giovanni Tesè entrambi autori di saggi sull'argomento il convegno sarà moderato da Stefano Scaduto e adesso la rubrica è il libro del giorno è il 1916 l'Italia in guerra da circa un anno e la sensazione più diffusa tra la gente comune è che si tratti di un sacrificio immotivato e incomprensibile ai più 30 giorni e 100 lire racconta la storia vera delle donne pacifiste siciliane che furono condannate a 30 giorni di carcere e una multa di 100 lire solo per avere manifestato contro la guerra Felice e Caterina protagonista del romanzo saranno affiancate nella ribellione da molte altre donne agrigentine provenienti da Palma di Montechiaro Ravanusa Licata e Campobello di Licata tutte accomunate dalla volontà di esprimere il loro dissenso nei confronti di un conflitto che sta affamando i loro territori così come tutto il paese in cui altrettante italiane condividono e manifestano la stessa posizione ma tra le notizie sconfortanti la nube di gas sul San Michele che uccise circa 2000 uomini l'istituzione dei tribunali militari straordinari che facevano fucilare disertori emergono anche piccoli camei nel quotidiano animati da una condivisione e resilienza da creatività a sorellanza che permetteranno alle protagoniste di portare avanti il progetto 30 giorni e 100 lire di Ester Rizzo Edito Navarra Sport parliamo di calcio Pietro Balistreri è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Unitas Sciacca l'esperto attaccante classe 86 proviene dalla Don Carlo Misilmeri con la quale ha disputato i playoff promozione nella sua lunga carriera ci sono diverse esperienze in serie C e D con oltre 100 gol dopo tanti anni in D nella scorsa stagione è sceso per la prima volta in eccellenza con il Misilmeri assegnato 4 reti in campionato e 3 in Coppa Italia metto la mia esperienza a disposizione di una bella realtà come Sciacca dove c'è uno stadio bellissimo e un pubblico caloroso ha dichiarato Balistreri al sorrivo al Gurrera ho ancora molta voglia di giocare e posso dare tanto ad una società ambiziosa con un tecnico giovane e preparato dopo le conferme di King e di Ciancimino Balistreri è un altro tassello importante nella rosa che il tecnico Lillo Bonfatto e Andrea Tummiolo stanno costruendo spiega il presidente Pasquale Bentivegna metteremo in piedi una formazione di qualità un mix di esperienza e di dinamismo giovanile e gli atleti della ginnastica aerobica del centro sportivo di Scobolo saranno impegnati questo weekend a Porto Sant'Elpidio per un raduno tecnico promosso dalla Federazione Ginnastica d'Italia si tratta di un allenamento nazionale un addestramento di alta specializzazione curato dai tecnici della Federazione Nazionale convocati per la di Scobolo gli atleti del settore gold Adele Interrante Gaia Allegro e Ilari Di Mino con loro c'è la direttrice tecnica regionale Marinella Riggio gym trainer della società Saccense è un'esperienza unica commenta soddisfatta Marinella Riggio è anche un modo per mettersi in evidenza con i tecnici della Nazionale e mostrare il proprio valore e per il momento è tutto ci fermiamo qui grazie della cortesa attenzione arrivederci a a Grazie a tutti.